3 minuti dopo, contropiede velocissimo impostato da Careca, continuato da Giordano, ma neppure in 3 contro 2 il Napoli sfrutta l'occasione con Ferrara. Al 41esimo, palla gol per Giordano, solo in area di rigore, Panicredi salva. Ripresa, al primo minuto la Roma passa in vantaggio, angolo di Conti e stacco perfetto di Pruzzo che ha sostituito Fuller e palla in rete, 1-0. Al decimo cominciano i guai per il Napoli, Careca dà una testata a Collovati e Magni estrae il cartellino rosso. Al 19esimo è la volta di Renica che si aggrappa a Boniek. Renica viene mandato prima sotto la doccia per somma di ammunizioni. Napoli 9, partita compromessa, niente affatto. Ecco il pareggio dei campioni, lo firma Francini.